Benvenuti alla terza edizione del Forum Seven Cup, quindi ringrazio tutti noi, la novità importante è l'ingresso di Cristiana Molina. Grazie a tutti. Ok, appena in aria, in questo momento abbiamo vinto e comunque la lana è pubblicamente passa e andare tutti dall'altra lana appena fatta la lana, ok? Paolo, ma com'è andata? Comunque era una giornata difficile, rapida, siete stati bravissimi. Comunque era una giornata difficile, rapida, siete stati bravissimi. Il mio stile manageriale si è molto cambiato nel corso del piano. Per me è facilissimo perché sono più di 30 anni che vado a fermare, quindi mi sentivo in una situazione di estrema sicurezza. Mi è stato facilissimo perché tutti quanti, normalmente tutti i leader di se stessi, tutti collaboravate, in questo proprio lo percepivo, si sentiva. Vai, calzate le viena, vai, calza, calza. Vai, viena. Il team numero 4, allora, con Simona, Giuseppe, Massimo e Andrea. Fabrizio, 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 vieni, il trofeo challenge viene consegnato. Consegnato a Andrea. Quindi? Dico in fermo che anche l'anno prossimo si farà fare un Seat Cup. Grazie ancora a tutti e un piatto speciale. Grazie a voi. Grazie a voi, bellissimo, davvero. Cazzo alla razza! Grazie a tutti.